KEEFERS La prego Va bene C'è una signora anziana che vorrebbe una proroga per il pagamento del mutuo L'alternativa è cacciarla di casa Le abbiamo già concesso due proroga È una scelta difficile Decida lei Un'altra proroga è fuori discussione E dove andrò a vivere? Mi creda sono mortificata Mai ho implorato per qualcosa Ma adesso mi umili in ginocchio davanti a lei La prego No, mi lasci Mi lasci, per favore Sicurezza Tu hai voluto umiliarmi Presto sarai tu a strisciare per implorare me Ti ha fatto una maledizione È una lamia Il più terrificante di tutti i demoni Per i primi tre giorni lo spirito tormenta le sue vittime Dopo verrà a prenderti Dove vuole portarmi? A bruciare all'inferno per l'eternità È venuto per me No, ascoltami È solo la tua immaginazione Come posso liberarmene? Darci un segno della tua presenza Puoi passare la maledizione Crono No! Crono No! Are you? No! 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 Grazie a tutti.